anche la categoria numero due delle puledre di due anni è stata suddivisa in due sottocategorie si può fare quando abbiamo più di dieci iscritti per categoria possono entrare le puledre della categoria 2a finis due years old class 2a grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. forse a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. la numero 15. number 15. lex. a tutti. a tutti. a tutti. con il numero 16. number 16. 17. a tutti. a tutti. a tutti. con il numero... 17. 19. for movement. a tutti. 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 la... 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 la...